Assia offre diverse modalità di ricerca. Iniziamo vedendo come fare la ricerca base. La ricerca base, Basic Search, è utile come punto di partenza. L'interfaccia è simile a Google. Possiamo inserire uno o più termini. Scrivendo più parole una accanto all'altra, la banca dati metterà automaticamente l'operatore AND, cercando documenti in cui siano presenti contemporaneamente tutte le parole. Ricordiamoci naturalmente di scrivere termini in inglese. C'è completamento automatico, quindi se non scriviamo troppo velocemente verranno suggeriti termini. Facciamo subito un esempio pratico. Cerchiamo l'argomento della preparazione all'adozione, in particolare dal punto di vista del genitore che adotta. Pensiamo alle parole da utilizzare. La traduzione letterale dei termini sarebbe Adoption Preparation. Quindi scriviamo i termini. Adoption Preparation. Vedete che il termine viene suggerito. Per lanciare la ricerca basta fare invio. Abbiamo trovato 80 risultati. Grazie a tutti.